Solitamente all'uscita di un libro ha sempre qualcosa di interessante nella sua attesa. Quando l'autore decide un nuovo lavoro sa già cosa e chi ci sarà dentro, quali sfondi faranno capolino dal suo scritto e quale sarà l'atmosfera che sarà cardine dalle sue parole. Questa volta il nuovo libro della bella e brava scrittrice bitontina Chiara Cannito ha un sapore molto delicato ma al tempo stesso pregno di significati perché va a scoprire un lato nascosto, immerso nella tradizione millenaria delle precessioni della nostra città. Perché di questo libro è creare prima di tutto uno strumento che potesse essere veicolato in tutta Europa all'interno di questo percorso di candidatura da parte dell'Associazione Europassione delle Settimane Sante di diversi comuni italiani e noi rientriamo in questo percorso da circa un anno quando dico noi intendo l'Arci Confraternita del Santissimo Rosario che ha deciso di realmente investire nella sua storia, nella sua tradizione secolare oramai e poi decidere di adottare un punto di vista nuovo, diverso, forse sempre tralasciato della Settimana Santa che è appunto quella del portatore, il punto di vista del portatore che è colui che avvicina le statue al popolo, che le porta in processione e che attraverso la sua fatica, il suo dolore, la sua preghiera intima diventa emblema di quello che è il sentire cristiano durante i giorni e i riti quaresimali. Il titolo stesso fa riferimento ad una figura importantissima nelle processioni solenniche che si tengono durante il periodo della Pasqua e non solo, cioè la figura di colui che sorregge la statua, Ustatueir, nel loro cammino fatto non soltanto di fede ma anche di devozione e di onore, oltre che di rispetto. Ustatueir, il portatore, nasce tale, almeno in me è nato il seme del portatore, l'ho avuto da sempre, dalla nascita, perché comunque era anche mio padre il portatore. Io uso una parola romantica per descrivere che cosa si prova durante la processione che non dura solamente nel percorso della processione ma dura una vita intera e uso questa frase romantica, si prova la sensazione di stare in paradiso camminando sul velluto. Durante la processione noi ci spogliamo della maschera della quotidianità, non perché durante l'anno siamo ipocriti, siamo falsi, no, ma perché in quell'esercizio c'è la base, ci approcciamo in una maniera semplice, in una maniera diretta e con la pace interiore. Il libro è stato presentato nella chiesa di San Domenico il primo giugno alla presenza tra gli altri dell'autrice, della professoressa Minenna, profonda conoscitrice delle tradizioni bitontine e del protagonista del libro, Michele, che ai nostri microfoni hanno trasferito tutta la loro emozione nell'aver preso parte alla stesura del libro. Un libro certamente da non lasciarsi scappare per chi ama la magia delle tradizioni. Grazie 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 Grazie